Ben ritrovati a punto di contatto, è il tema di questi giorni, si parla di giovani alle prese con un mercato del lavoro poco inclusivo o per nulla, con nuovi lavori, con nuove tipologie contrattuali, anche troppe, si dice soprattutto con il bisogno di nuove tutele. Che cosa fa il sindacato per tutelare questi giovani che si affacciano sul mercato del lavoro? Noi oggi ne parliamo con Orlando Simeoni che è RSA della Felsa CISL per i lavoratori somministrati ad ECO, che ringraziamo in maniera particolare di essere qua con noi stamattina perché Reduce da un turno di notte presso quale azienda Orlando? Presso la Trelleborg Well System. E di cosa ti occupi? Mi occupo di pneumatici per trattori praticamente, è un'azienda che costruisce pneumatici e io faccio il carellista e macchinista, sto davanti i vulcanizzatori, reparto cottura diciamo. Da quanto tempo lavori presso la Trelleborg? Da sette anni presso la Trelleborg, da sette anni con la stessa agenzia per i somministrati diciamo. Quindi sempre con un contratto di lavoro in somministrazione, che tipo di rapporto hai con l'ADECO, che tipo di contratto? Allora io ho un contratto fortunatamente a tempo indeterminato con ADECO, determinato con Trelleborg di 24 mesi, che scadrà a costo se non sbaglio sì. E in prospettiva che cosa ti auguri da qui diciamo ai prossimi 5-6 anni? La prospettiva è di rimanere dove sono perché ecco dopo tanti anni che un ragazzo o molti altri ragazzi colleghi che lavorano all'interno di un'azienda, bene o male il lavoro è quello, lo stipendio pure è quello là, è sicuro e tutto quanto, quindi si può fare già un percorso di vita. Ecco abbiamo detto sei un lavoratore in somministrazione, hai detto una cosa interessante che rimarcherei, il fatto cioè che hai un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi normalmente uno pensa a un lavoratore somministrato comunque con un contratto a termine, non è così. Ci puoi spiegare che tipo di tutele hanno i lavoratori in somministrazione? Allora diciamo che il contratto indeterminato è indeterminato tra virgolette perché poi c'è sempre un contratto determinato con l'azienda per cui lavori, quindi porto un esempio semplice, se l'azienda per cui lavoro io oggi domani chiude, io ho la fortuna avendo l'indeterminato di essere ricollocato all'interno di altre aziende che sperando sempre trovi un posto di lavoro. Anche riqualificato perché magari potrebbero chiederti di fare un lavoro diverso. Sì, possono fare sia delle riqualifiche che addirittura anche dei corsi di aggiornamento, quindi degli affiancamenti per altre aziende di altro tipo, altre manzioni. In maniera molto sintetica, come è cambiato il lavoro che un tempo si chiamava lavoro interinale, prima di diventare lavoro somministrato? Che cosa è cambiato negli ultimi anni? Tu hai detto lavori dal 2007 con ADECO. Sì, diciamo che è cambiato il modo proprio di come lavorare. Nel senso proprio all'inizio noi siamo entrati che eravamo contratto a tre mesi, dopo tre mesi non sapevi se dovevi o non dovevi rimanere nella stessa azienda, se ti prorogavano, se ti mandavano via. Oggi bene o male con queste nuove situazioni di contratti a tempo indeterminato diciamo che a noi ragazzi c'è la possibilità già di una speranza nell'indomani, nel futuro. Abbiamo molti ragazzi noi all'interno dell'azienda che non sanno domani che faccio, dopo domani. Mentre io bene o male da una parte avendo questo piccolo contratto indeterminato so che domani però c'è un lavoro, se non ce l'ho qua ce l'ho da un'altra parte. Quindi tu hai a che fare comunque con una realtà del mondo del lavoro che resta comunque incerta. Sì, è sempre, è sempre... Com'è fare attività sindacale con questo tipo di lavoratori e come tu stesso ti sei avvicinato al sindacato? Allora, fare attività sindacale almeno su questo lato è molto difficile. Io personalmente posso dire che abbiamo avuto la fortuna all'interno dell'azienda di... All'inizio è stato durissima pure farti capire da ragazzi perché giustamente loro pensano più al futuro, pensano più, non pensano ad oggi, magari stringiamo i denti e andiamo avanti. Pensano sempre il contratto me lo fanno? Il contratto me lo fanno? Cioè è diventato oramai un'ossessione, capito? Quando invece io personalmente sono rimasto fermo un anno e quattro mesi da quando feci il primo contratto. E in quell'anno e quattro mesi come ti sei avvicinato? Allora, ho ricevuto una disoccupazione di otto mesi e poi ho arrangiato un mese, due, ho arrangiato fino a quando poi dopo mi hanno richiamato. Sono rientrato in azienda e dopo quattro mesi mi hanno fatto indeterminato. Anzi, hanno prima riassunto altre venti persone al contratto a tempo indeterminato Trelleborg. Infatti io là stavo con la speranza di essere assunto dalla Trelleborg. Sì, riuscirò a passare anche io, visto che sono tra i vecchi che hanno richiamato e invece alla fine quando sono usciti i quadri con nominativi, l'anno mio non c'era. Infatti sono rimasto, dico, è possibile che è passata avanti a me gente che ho imparato io a lavorare, gente che è entrata dopo di me. Quando ho chiesto poi al sindacato il motivo per il quale era successo questo, mi hanno risposto perché ci hanno più giornate lavorative. Dico, è questo chi lo dice? Dice, no, siamo andati a fare conteggi, alla fine l'ultima persona che era entrata prima di me c'aveva due giorni lavorativi più di me. Per due giorni lavorativi io non ho percepito. E' stato quello il momento in cui ti sei avvicinato al sindacato? Sì, perché poi dopo loro hanno iniziato subito, logicamente io le furie erano, non volevo neanche andare a lavorare io quel giorno. Dico, stacco e me ne vado perché è inutile che sto qua a lavorare, ho la testa proprio, perché ti senti deluso poi da tante cose, capito? Poi invece sto ragazzo si è avvicinato, dice, guarda, piano piano, dice, continua a stringere i denti, dico, posso stringere un altro po', dico, già nel quattro mesi che sono stato fermo, dico, sono rientrato, mi ritrovo davanti 20 persone che alla fine dovevano stare dietro e stanno davanti, dico, allora, o sono raccomandati, dico, o c'è sta qualcosa che non va. Poi fortunatamente, ecco, siamo arrivati al giorno del famoso contratto a tempo determinato e uno, ad oggi posso dire, la speranza mia è arrivare un indomani a passare effettivo nella mia azienda, pur rimanendo sempre in contatto con ADECO e tutti quanti i ragazzi che, logicamente io, è un anno che lavoro con loro, è un anno che loro, c'è proprio un'unione, sia tra noi, sia tra le RSU proprio interne, perché pure grazie a loro... Ecco, una cosa di cui si parla poco e si tende a pensare che non ci sia grande solidarietà tra lavoratori a tempo indeterminato che sono presso l'azienda e i lavoratori in somministrazione che lavorano presso la stessa azienda ma che il rapporto di lavoro ce l'ha con l'agenzia. Ad oggi posso dire invece che nella mia azienda, fortunatamente l'unione ce l'abbiamo tutti quanti, cioè è un'azienda bella, soprattutto gli operari sono molto uniti. Diciamo, tempo indietro, magari quando non c'era un RSA come me o come gli altri colleghi che tutelavano i somministrati, le RSU potevano fare tante e non più, cioè più di tutelare i loro, sì magari potevano trovarti una soluzione, un escamodace diciamo, però alla fine non potevano andare a sistemare proprio una situazione di una persona. Da quando siamo entrati noi, poi dopo c'è stato un po' ai primi tempi un po' di scontri perché era la novità, diciamo, l'RSA, chiesto RSA, alla fine siamo sempre stati noi qua, poi invece piano piano con la collaborazione, oggi, domani, dopodomani, giorno dopo giorno, insomma siamo riusciti ad oggi, fortunatamente, abbiamo una bella unione, quindi qualsiasi problema, se non riesco io c'è l'RSU, se non c'è l'RSU si rigirano subito a noi, quindi su questo lato siamo cresciuti molto con un anno. Posso dirti che la sensazione che viene parlando con te è che il passaggio al sindacato consente anche a questo tipo di lavoratori in somministrazione che probabilmente si vivono intanto come individui, perché ciascuno rischia di essere scavalcato. Come numeri, proprio. In qualche modo vi dà l'idea di essere un corpo collettivo, ecco il passaggio. Ecco, proprio perché appunto hai questa consapevolezza da rappresentante sindacale, noi chiudiamo il programma sempre con un appello di 30 secondi che il nostro ospite rivolge a nome dei propri colleghi. Ecco, Orlando, questa è la camera, te la parola. Allora, beh io un appello che volevo fare per quanto riguarda i miei colleghi è che appunto la problematica per le stabilizzazioni della gente all'interno dell'azienda. Quindi noi siamo arrivati oggi fortunatamente ad un numero di 50 persone a contratto indeterminato, mentre altre 50 ancora stanno con il contratto a scadenza. Giustamente, da un lato diciamo, è un po' un'arma a doppio taglio, in quanto è stato firmato un nuovo contratto nazionale che non prevede più l'assunzione a tempo determinato dei ragazzi dopo 36 mesi e quindi vengono prorogati. L'unico mio appello è cercare di stabilizzare almeno altre 50 persone, in modo tale che abbiamo altre 50 famiglie che hanno uno stipendio dove contare, perché oggi come oggi lo sappiamo tutti che in Italia il lavoro è difficilissimo da trovare. L'unico mio appello può essere solamente questo e lo auguro soprattutto anche ai miei colleghi di avere un contratto come ce l'ho io e bene o male la sera ti metti a letto con la testa, stai un attimo tranquillo. Benissimo, Orlando allora in bocca al lupo anche a tutti i tuoi colleghi, ti ringraziamo per essere venuto qui. Io ricordo se volete venire in studio e raccontare che cosa succede nel vostro posto di lavoro potete scrivere a labor.tv.chiocciolacisl.it Grazie per averci seguito e una buona giornata a tutti. Grazie per aver guardato il video.